Welcome boys and girls nel settimo episodio di Outlast 2 Sì, sono tornato su YouTube e avete visto che cosa bella Eh sì, eh sì, sono tornato in questa stupenda piattaforma Perché? Perché? Perché non stavo troppo bene nel periodo di settembre Diciamo che mi sto riprendendo E quindi sono tornato Buona visione Vi ricordate di questo bel posto? Io preferirei non ricordarmi cosa c'è a destra Cioè per me a destra, per voi forse è qui Non lo so, c'è una signora che non sta molto bene Per colpa di questo determinato essere Molto obeso Non c'è niente contro di voi Eh però pure in Outlast 1 c'era E deve uscire Outlast 3, eh Cioè, deve uscire sti giorni Quindi lo prenderò subito Quindi sbreghiamoci a finire questo perché Dobbiamo fare immediatamente l'altro Ma, ma Ma quasi, quasi Ci teniamo questo Dai Stiamo così bene qui Sono Tarzan Perché mi son guardato all'ingietro? Non lo so Io sono arrivato Cioè, questa dovrebbe essere la parte critica Quella in cui c'è Satana Ah, proprio Questo è il pomodoro Cioè, guardatelo È tutto Ah, è il ketchup Ketchup Eh sì Comunque datemi una Madonna che brutto Sto giorno Datemi una batteria perché sto morendo Me ne rimane una Anzi, una e mezza Se proprio vi può interessare Non ci passerei io qui le giornate Dove vuoi? Il salto dal canguro Mamma mia Fenomeno Uè Appello del zi Tutto a posto? Qui posso? Sì, sì Mi dà pure il salvataggio Belle stasche Agliagliagliagli Le testo fanno davvero male Eh, io che ne sapevo Uè Appello del zi Tutto a posto? Non si vede niente Comunque Non per dire Madonna che brutto Girarsi dietro Salve Devo ricaricare Fai la nanna Bella madonna Come soffre tanto? Devo andare lì Però Il giro non posso Eh, questa mi attacchi Non è successo niente Sono forte Ma che cazzo vuoi? Boh Dunque si prepari Ti è disposto Ad ascoltare Prepari La sua mente Accolta Con serenità Vabbè Oh, non è che posso Leggere tutto? C'era il signore Uè Tutto a posto? Con quella Ci fa il barbecue No? E marshmallow Eh Lo so Mi sembri un uomo fidato Non mi farai del male Vero? Verissimo Ti vedo Brutto Sbronzo Ma 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 Magari Il signore dietro Va anche bene Cioè Ehi Sembrerà di stare In calabria Perché è partita Sta musica Ok Ho aumentato un po' L'audio Così sentite pure voi Ta grandissima cacata Avangulba Quello che è alien? No Un mo' Grazie per il salvatato Cosa c'è qui? Niente No Non c'è satano Ah Qui sono nel molleghino Nel mollone Capite la battuta Mollino Mollone Eh Eh Oh Dove esserci un modo per Ah forse devo fermarlo Qui secondo me è più meglio Is the best Eh ecco Raggi L'avevo detto che era la zona migliore Eh eh L'avevo detto io Ma c'è satana Fermarmi Vero? No Questo dove va messo? Qui? Mmm No Cazzo cazzo Via 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 T'ammazzo 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 Com'è che per curare la ferita Magari non ora Magari non ora Magari non ora Via 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 Non è ora della batteria. Dai. Quanto brutto. Pezzo di gioco. Perché sta musica aumenta? Che palle. Che è sta cosa? Come chiude il chiave? No, no. Così. Non ho batteria. Lo dico. Non sono messo male di più. Via, scappa. Ecco, eccoti qua. Non sta arrivando, vero? Sì, arriva. Non è un problema se ti sei fatto la bua. Ne devi andare, te ne devi andare. Non devi più tornare. Dai, dai, dai. Via, via. Sto premendo. Sto premendo. Il salvataggio? No, no. A me serve il salvataggio. Non mi ha visto. Non mi ha visto. Eh, dai. Dai. Due. Vado, è schifo. Ah. Sì. Il salvataggio, dai. Dai, non posso vedere niente. Dove andare in una zona di luce. Veloce. Sì, salvataggio. Sì, salvataggio. Sì, salvataggio.